Sconfitta per la Carpegna Prosciutto Basket Pesaro, che nel match di ieri alla Vitrifrigo Arena contro l'Eppi Casabrindisi, ha perso per 86-62. La squadra pugliese, nuova capolista e reduce dalla vittoria contro l'Olimpia Milano, impedisce dunque alla VL di avvicinarsi alla zona play-off. I biancorossi si fermano a quota 20 in classifica e Coach Repesa ha commentato così la prestazione della squadra al termine del match. Sarebbe scorretto non partire senza fare complimenti per una veramente grandissima prestazione, non solo stasera, nell'ultimo periodo come stanno facendo e complimenti di cuore. Da una parte sarebbe scorretto non fare scusa, completa nostra tifoseria e società, non per una partita persa, per non pareggiare giocando a casa con energia. È solo per questo. Purtroppo non sono riuscito, avete visto che ho provato, 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 dare un periodo difficile per me, per mia salute, dove in post-covid sto veramente faticando per riprendere completamente di nuovo. Ma purtroppo qualcuno con 20 anni non riesce. Questo è un dispiacere enorme e è così. Possiamo andare in play-off, possiamo retrocedere, purtroppo è così. Purtroppo, 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 tutto va da quella pausa che è successa dopo Coppa dove l'altri hanno lavorato, noi no, dove non è stato coach e purtroppo si vede che non siamo stessa squadra. Stiamo provando, facciamo fatica a rispondere ai 40 minuti. La Bologna abbiamo fatto benino, diciamo così, prima di tutto, tirando bene da 3, segnando 12 triples. Guarda, in 20 minuti non succede ogni giorno. Siamo stati più 15, ma alla fine rischiando di perdere la partita. Sai perché? Non abbiamo avuto energia fino in fondo. Oggi, onestamente, abbiamo incontrato una squadra con molta più energia, molto più fisica, atletica di noi e ci ha massacrato fisicamente, atleticamente, uguale, atleticamente, con cambi sistematici in difesa. Non siamo riusciti, non abbiamo la squadra che può fare contro questa difesa, purtroppo. Grazie a tutti.